Ciao ragazzi, ma come tu Ehm Non sto picciando, eh, ragazzi Sto qua perchè devo fare una cosa velocissima Devo fare sta legna Madonna, che casino Una cosa velocissima Io Voglio pronosticare Velocemente Perchè non ho potuto fare il video Allora, i titoli massimi Inizia poco di coppia Allora, sicuramente 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 Parlerò del match, però anche di cosa penso Nel video post E dall'altra Sicuramente però sono ancora su Sottotitoli delle Divas Vince Asuka E Nia Jax A meno che In Cassa Carmela, ma non su Asuka Come tutti pensano Su Nia Jax e Alex Abriss Punto Stati Uniti Vincere a Rusev secondo me Oppure, sapete che è il match più genere Infatti io Però potrebbero vincere a Rusev però vabbè Lì comunque Rusev E E continuo Randy Orton però Non credo Che vinta Poi Il titolo del continentale dirò Se Tronen è troppo scontato Io vorrei dire Se Tronen E Finbelo Vori dire Devinzi come vincere anche Devinz Però se Tronen io tifo sempre tra Tronen Quindi se Tronen è Finbelo abbiamo Daniel e Shane contro le secondo me vinceranno in qualche modo che che vediamo se se mi sei anche se spero vincerà Daniel e Brian spero di sbagliarmi in questo poi abbiamo Rondalosi vincerà invece Nakamura siccome vincerà vincerà Romarene sicuramente e Junsira contro Undertaker non lo dico perchè non è sicuro ma vincerà credo Undertaker se lo fanno spero di siderica Alexander vincerà lui spero ecco il papà